Spesso si parla di filosofia di vita, ma mi viene da ridere, perché è la filosofia un modo di vivere, investe completamente la tua persona da testa a piede, cambia la tua vita radicalmente. Essere filosofi significa riflettere criticamente e in maniera antidotmatica su ogni aspetto della propria esistenza, mettere in discussione ciò che ha ritenuto essere vero, giusto e bello. E spesso da questa messa in discussione può risultare che ciò che noi crediamo essere vero in realtà è una falsità assoluta, stessa cosa vale per ciò che riteniamo giusto, più complesso è il discorso sul bello. Sta di fatto che l'idea che noi abbiamo della realtà esterna alla nostra mente ad un'analisi critica risulterebbe falsa e sbagliata, le verità a cui siamo affezionati sono in realtà minsogna, inoltre anche le nostre abitudini, stili di vita, convenzioni sociali, organizzazioni politiche, potrebbero risultare radicalmente sbagliati, e andrebbe cercata la maniera giusta per vivere. Per cercare di avvicinarsi alla verità ogni scuola di pensiero ha il proprio metodo, ma tutti coloro che sono in un modo o nell'altro eredi di Socrate, Platone e Aristotele usano l'argomentazione per tentare di dimostrare le proprie tesi e cercare di criticare ciò che ci è stato messo davanti. Avere solo un atteggiamento ipercritico e polemico come dice, Voltaire e Luciano di Samo usata non basta, essi non avevano gli strumenti per poter tentare di dimostrare le loro tesi. Platone in parte prende le mosse da Socrate, usa il metodo del dialogo anche per scrivere le sue opere. Proprio per illustrare come si svolge una discussione, una sorta di via di mezzo tra la parola viva e il trattato scritto. Dialogo deriva dal greco di a più logos, e può tradursi con incontro barra scontro tra parole, da cui deriva anche dialettica. La dialettica in Platone consiste nello scontro tra le argomentazioni e le controargomentazioni di più persone riguardo a un tema. Platone crede che con la dialettica i partecipanti si avvicinino progressivamente senza arrivare mai alla verità su quel tema. Aristotele non ha nulla a che vedere con questo metodo, solo che lui ha inventato la logica, la disciplina che cerca di capire se un'argomentazione è valida, cioè se la sua conclusione in base ad essa è vera oppure no. Nell'organon lui non solo studia le forme arrocomentative corrette, ma si occupa anche delle strategie di retorica, usate comunemente sia nella quotidianità che dai sofisti in politica o in tribunale per ingannare le persone e convincerle di qualsiasi cosa. Organon significa strumento, perché secondo Aristotele la logica, o analitica, come la chiamava lui, è propedeutica a tutti i campi del sapere, infatti non rientra nella sua classificazione delle scienze. Nel medievo l'istruzione di base era costituita dalle sette arti liberali, che derivano dal progetto pedagogico di Platone nella Repubblica. Alla base c'era il trilio, composto da grammatica, latina, dialettica, e retorica. L'uso corretto della grammatica e della dialettica erano la base del metodo delle università e delle discussioni filosofiche e teologiche. E la retorica serviva per essere convincenti e difendersi quando un altro usava fallace logiche o altri sofismi per far passare per vero un'idea falsa.